Eccoci amici! Oggi crema di finocchio con mazzancolle, un piatto leggerissimo e saporito! Iniziamo a tagliare il finocchio a fette. Affettiamo lo scalogno. Un giro d'olio Evo e facciamolo rosolare per qualche minuto. In seguito aggiungiamo i finocchi. Facciamoli ammorbidire per 3 minuti e aggiungiamo mezzo litro d'acqua per altri 15 minuti di cottura. Nel frattempo eliminiamo testa e capace delle mazzancolle. Piccola incisione sul dorso e eliminiamo il filo intestinale. Scottiamoli per qualche minuto. Scutiamoli con mezzo bicchiere di vino bianco e facciamo evaporare la parte alcolica. Aggiungiamo un pizzico di sale e pepe. E dopo averli ammorbiditi passiamoli nel frullatore aggiungendo un pochino di acqua di cottura. Il piatto è pronto. Crema di finocchi con mazzancolle. Un piatto davvero leggero e saporito. Un piatto davvero leggero e saporito. Un piatto davvero leggero e saporito anzioni di incisione. Un piatto di Pinterest.